Non ci vuole tanto ad eliminare le liste d'attesa, basta che gli anziani rinuncino e il gioco è fatto. Esatto, nobile tasso. Siamo qui ancora a denunciare lo sfascio della sanità pubblica della nostra regione. Questa volta ce lo dice l'Istituto Superiore della Sanità. Sono stati addirittura 74 mila anziani che hanno rinunciato a visite mediche ed esami nel biegno dal 21 al 22. E cioè il 27,4% degli ultra 65 anni residenti in Umbria che hanno dichiarato di avere difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari. Sono ben 74 mila anziani, cioè il 32,35% su 228 mila cittadini umbri che hanno un'età superiore ai 65 anni. Una percentuale nettamente più alta rispetto a quella italiana che interessa praticamente un anziano su quattro, il 24,3%. Con l'Umbria che è fra le tre peggiori regioni. Solo fanno peggio solamente le Marche e la Sardegna. Inoltre la rinuncia agli esami e alle visite è stata più frequente tra quegli anziani che hanno dichiarato di avere delle gravi difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Il 37% rispetto al 24% di chi non ne ha queste difficoltà. Quindi gli anziani e con pensioni basse sono quelli che con più probabilità rinunciano a curarsi. Il 36% ha riferito di aver rinunciato a causa delle infinite liste di attesa. Il 7% per difficoltà di raggiungere la struttura che può essere o troppo distante o è senza collegamenti pubblici o con mezzi di trasporto inadeguati. O a causa della scomodità degli orari che gli sono stati proposti. Ben il 5% degli anziani ha riferito che rinuncia a causa dei costi troppo elevati dei ticket e che pertanto non sono sostenibili con il loro reddito familiare. Questi dati che sono pessimi, preoccupanti e in alcuni versi orribili ci indicano il declino della qualità del sistema sanitario pubblico regionale. Un declino che però è anche una politica. È la politica della giunta regionale dell'Umbria. Cioè quella di far collassare la sanità pubblica per favorire quella privata e l'assicurazione. Ecco, personalmente ritengo, assieme ad altri, che occorre al più presto una mobilitazione delle coscienze degli utenti, dei pazienti, dei familiari degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche progressiste che difenda in Umbria il diritto alla salute per tutti e per tutti.